E ieri pomeriggio si è tenuta presso l'Aulamagna dell'Istituto di Scienze Religiose di Bari o De Gitria all'inaugurazione del nuovo anno accademico 2010-2011. Serena Russo. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bari, subentrato all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Molfetta, è sorto nella regione pugliese come segno della sollecitudine pastorale dell'Episcopato regionale in risposta ai bisogni di crescita intellettuale cristiana dei fedeli. Ieri nell'Aulamagna dell'Istituto l'inaugurazione del nuovo anno accademico 2010-2011. L'obiettivo sarà quello di creare un'esperienza di verità nella carità e di carità nella verità che porti i docenti e gli studenti a costruire una vera e propria comunità di maestri, testimoni e discepoli. I benefici in questo modo diventerebbero reciproci e la facoltà ancora più viva, ricca di umanità e di comunione cristiana. La comunità accademica potrà dare un contributo positivo all'evoluzione del nostro modo di vivere, coinvolti come siamo nei complessivi processi della globalizzazione. Un modo per avvicinare sempre di più il mondo della fede a quello laico, un rapporto che negli ultimi anni è divenuto sempre più stretto, come ha spiegato ai nostri microfoni Monsignor Vito Angiuli, già direttore dell'Istituto Ode Gitria di Bari e vescovo eletto della Diocesi di Ugento e Santa Maria di Leuca. Vorrei ricordare che in anni dietro abbiamo realizzato delle iniziative di carattere accademico di alto livello, almeno due convegni internazionali, insieme, collaborando con la facoltà di filosofia della facoltà di Bari e con il Dipartimento di Scienze del Politecnico. Due convegni internazionali sul tema di Dio e scienza, scienza e fede, insomma, il rapporto tra il pensare teologico e lo sviluppo della scienza. E passiamo ora alla cultura. A Bari torna Balafon, il Festival della Cultura Africana, giunto alla sua ventesima edizione, avrà inizio il prossimo 19 novembre. Questa mattina la presentazione del programma degli eventi e per noi c'era Mirko Cafaro. Balafon compie 20 anni. Il Festival della Cultura Africana di Scena a Bari torna puntuale nel mese di novembre con il suo fitto calendario di eventi, kermesse, proiezioni e seminari. Un compleanno speciale festeggiato proprio in occasione di un'altra ricorrenza. I 50 anni di indipendenza del continente africano, un continente in via di emancipazione e costante avvicinamento al mondo occidentale. Balafon è un messaggio di vita, cultura e visibilità, un esempio di integrazione, un appuntamento che negli anni ha saputo consolidarsi e arricchirsi nel panorama dell'offerta culturale barese. Organizzato dalla comunità di Corte Altini, con il patrocinio di Unione Europea, Ministero per i beni e le attività culturali, regione, comune e provincia, avrà inizio il prossimo 19 novembre e proseguirà attraverso 8 giorni di programmazione con più di 20 proiezioni di lungo e cortometraggio al cinema armenise, incontri con le scolaresche e un seminario presso l'Università di Bari dedicato proprio alla ricorrenza dei 50 anni dell'indipendenza del continente nero. E nella nostra città si è tornati a parlare del disequilibrio del mondo del lavoro tra uomo e donna. Un problema sempre più sentito, di cui si è ampiamente discusso alla libreria La Terza di Bari in occasione della presentazione del libro Donne in attesa, l'Italia della disparità del genere. Dopo il convegno alla provincia di Bari sul bilancio di genere tenutosi pochi giorni fa, ancora una volta nella nostra città si parla di disparità uomo-donna. L'occasione è stata creata da Alessandra Casarico e Paola Profeta, che ieri, presso la libreria La Terza di Bari, hanno presentato il loro libro Donne in attesa, l'Italia della disparità di genere, un'opera nella quale le due autrici fotografano la situazione attuale delle donne nel mondo del lavoro. Donne che attendono un ritardo che si rivela essere uno spreco, tanto per l'economia nel suo complesso, quanto per le famiglie, le imprese e la politica. La domanda che ci siamo posti è quale potrebbe essere il guadagno in termini di crescita se 100.000 donne in più partecipassero al mercato del lavoro. 100.000 donne in più sul mercato del lavoro ci permetterebbero di avere un guadagno in termini di PIL pari allo 0,28%. Questo 0,28% è sostanzialmente un terzo di quello che al momento l'Italia sta spendendo in politiche familiari. Presente all'incontro anche l'assessore al welfare e servizi sociali, Ludovico Abbaticchio, secondo cui il rimedio alla disparità di genere sarebbe da ricercarsi in politiche giovanili più educative. Io credo molto che se noi riusciamo a portare la presenza dell'istituzione, la cultura, della tutela della persona, in questo caso del proprio corpo, del corpo altrui, anche sul piano della salute, riusciremo ad avere sicuramente un adulto maschile o femminile molto più in sintonia e una politica di condivisione. Qual è il rapporto tra l'Italia e il commercio estero? Ne abbiamo parlato con l'ambasciatore Umberto Vattani, presidente dell'ICE, e sentiamo uno stralcio dell'intervista integrale che andrà in onda questa sera, subito dopo il Tg delle 20.30. L'Italia appare ultima tra i big dell'Unione Europea per l'attrattività degli investimenti. Le regioni italiane che più subiscono questa situazione sono soprattutto quelle del sud. Le cause quali sono? Non abbiamo saputo cogliere i benefici della globalizzazione. Diciamo che li stiamo cogliendo, però. Forse abbiamo accusato un certo ritardo all'inizio, ma adesso si stiamo riprendendo. L'ICE, insieme al Politecnico di Milano, ha presentato poche settimane fa il rapporto Italia-Multinazionale con il quale si registrano i movimenti e i flussi di investimenti verso l'estero e dall'estero verso l'Italia. Ebbene, certamente non siamo tra i primi, ma non siamo nemmeno tra gli ultimi e anzi stiamo adesso riprendendo. La caratteristica più interessante è che ci sono delle aziende italiane, che si chiamano un po' le multinazionali tascabili, che riescono oggi a investire in tanti paesi e aprire degli impianti produttivi o dei canali di distribuzione all'estero sempre più numerosi. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.